Controllo rapporti, grazie, veloci, veloci, controllo rapporti, le prime cinque, controllo rapporti, forza, 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 le prime cinque, le prime cinque controllo rapporti, uno, due, tre, le mancano due, le prime cinque controllo rapporti, le prime cinque, le mancano una, grazie, controllo rapporti, ragazze, poi ci facciamo comunicare le prime assolute, saliremo sul palco. Vieni. Vieni. Grazie. 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 Ore 15.30, partenza allieve tra mezz'ora. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vivienne Cassata, Abusto Garolfo, Vivienne, vediamo se ce l'abbiamo qui, in zona per i fotografi, la prima, l'absoluta vincitrice della prima gara esordienti, Vivienne, eccola qua, vieni, vieni, e poi la presentazione delle quadre fotografi. Applausi, Vivienne Cassata, prima assoluta, allora Vivienne, come è stata questa gara? E' stata una gara abbastanza combattuta perché non c'era mai decisione per allungare, e il percorso come ti è sembrato? Un bel percorso, benissimo, allora applausi a Vivienne, per il percorso, guarda, l'obiettivo, eccoli qua i nostri fotografi.